ooooooooooooooo ooooooooooo oi oi oii p****** veno? è grave o? O 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 Ayan na guys Bilis o Bilis Dami Dami nila Parang MotoGP Bilis O 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 il senso che può essere un nome si è il senso si è il senso non è il senso non è un senso non è non è non è non è non è Sì, sì, sì. Un'è ancoraですか? Un'è ancora una Sara? Un'è ancora una canalla? Un'è un'è più cuore. Un'è più usato. Un'è più, un'è più usato. Un'è più duro? Un'è più ruora, non è più ruora. Un'ambulaggio! Un'ambulaggio! Un'amTasci Zoom? Un'ambulaggio non è più ruora. Non è più ruora. and guys pasok sa ano pasok sa canal yun yung ana nya layo layo ng naabot simula dun punta dito layo ng ana nya yun dami tao may tama marabi yung tama ni marabi yung trauma ni Oscar eto yung sapatos nyo tanggal yung sapatos 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 nya lumembrans sapatos na Oscar sapatos sapatos na Oscar ayan guys saka kasi yung ulan dun saka kasi yung ulan dun saka kasi yung ulan dun sumakto yung ano nya dun dumula sya sa may ano sa may kulay puti kulay puting pintura kaya na gewang gewang hindi na nakontrol ayan kumimplang na nakatapos lang din kasi ng ulan kaya yung kaya ayun kaya tayo guys ingat-, ingat-, ingat kapos raw fish aww aww makata Grazie.